4 libri che devi leggere se vuoi avere successo Lo sapevi che l'85% di tutti i milionari self-made leggono almeno 2 libri al mese? Leggere è un'attività talmente importante che molti la definiscono quasi indispensabile per l'avere successo E oggi vi presento 4 libri con i quali puoi iniziare verso la strada per il successo Iniziamo subito con il classico padre ricco, padre povero Un libro che romperà gli schemi di tutto ciò che sai Questo libro talvolta può sembrare banale ma è un'ottima introduzione a questo mondo Perché non puoi avere successo se prima non cambi il tuo mindset Se prima non diventi tu stesso una persona di successo Cos'è che si dice? Il primo milione è difficile ma il secondo è inevitabile Perché non conta il fare i soldi ma è con ciò che conta è la persona che sei diventata per fare i soldi E padre ricco, padre povero sarà il primo libro che ti aprirà gli occhi a questo nuovo mondo E al come i ricchi si relazionano con il denaro Secondo libro che devi leggere Autostrada per la ricchezza di De Marco Ottimo ottimo libro se vuoi diventare un imprenditore Secondo De Marco ci sono tre strade in cui le persone viaggiano Il marciapiede, tutte le persone, praticamente il 90% delle persone che rimarrà povera per tutta la vita La slow lane, la strada comunale possiamo chiamarla Cioè la strada delle persone che lentamente si arricchiscono De Marco in questo libro è particolarmente critico verso la slow lane Non sono così d'accordo però ha dei punti molto interessanti E la fast lane, la strada degli imprenditori, delle persone che in 5-10 anni riescono a accumulare una ricchezza gigante Una quantità di ricchezza enorme Quindi autostrada per la ricchezza super consigliato Come terzo libro abbiamo MBA personale Master of Business Administration Sarebbe in poche parole un master Ti spiega in tutte le parti del business Dalla creazione di un prodotto, dal marketing, alla vendita, al management Ti spiega i vari termini principali da utilizzare Un ottimo libro che sicuramente sarà nella top 3 dei migliori libri che avrà letto in vita tua se vuoi diventare un imprenditore Ti darà tutte quelle nozioni che ti servono Tutte quelle informazioni per diventare un imprenditore Un grande manager di successo Senza avere per forza fatto un percorso di studi accademico Infine Il quarto libro è 4 ore alla settimana di Dean Ferris Ne avrai sicuramente sentito parlare In questo libro Questo libro è un sacro galli Nel giro di due giorni io l'ho finito E quello che ti insegna Ti insegna a bilanciare l'aspetto work life balance Quello lì che io ho preso da questo libro Ha tante nozioni utili anche sul business Ma ci ricorda Che avere un milione di euro Senza avere il tempo di spenderli Di goderseli Non ha nessun valore Quindi con questo libro Imparerai a sapere come gestire il tuo tempo Come ottimizzare il tuo tempo Per vivere una vita soddisfacente Senza lavorare troppo Grazie di essere rimasto fino alla fine Ti invito a iscriverti al canale E a commentare qui sotto Con i libri che tu consiglieresti Grazie a tutti